Avviso di chiusura indagini per i vertici toscani di Anas in merito al fascicolo aperto dalla procura di Arezzo per il crollo della piazzola lungo l'Ai 45. Era la notte tra l'11 e il 12 febbraio del 2018. La piazzola crollò e le abitazioni sottostanti vennero sgombrate per ragioni di sicurezza. Un pericolo secondo i rilievi degli inquirenti che era ben noto ad Anas da tempo perché alcuni cittadini avevano notato e segnalato un'evidente crepa lungo l'asfalto dell'area di servizio. Segnalazioni diventate più numerose pochi mesi prima del crollo. Negligenza, imprudenza, imperizia e inconcorso. Questa l'accusa per il capo centro Anas di Firenze e del capo nucleo Anas di Firenze e responsabile area Anas compartimento della Toscana che devono rispondere di crollo colposo. Gli indagati hanno tempo adesso 20 giorni per presentare le proprie memorie alla procura che deciderà sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.